Porto Cervo Wine Festival, seconda edizione, nella scoperta dei territori, arriviamo in Sicilia con l'azienda Casa di Grazia, benvenuti. Raccontiamo un po' come nasce e quando nasce il progetto della vostra azienda. Allora, il progetto della nostra azienda nasce quasi per gioco, nel senso che alcuni amici, vedendo i nostri vigneti, sono rimasti affascinati dalla bellezza dei vigneti, allora ho detto, perché non fate il vino? E così, all'improvviso, mio marito decide, quest'anno imbottigliamo. In un primo momento non l'accettai perché eravamo molto presi da altre attività, però poi ho deciso di fargli questo regalo e nel tempo mi sono resa conto che il regalo più bello me l'aveva fatto lui e me. Perché fare il vino significa davvero avere tanto amore per le vigne e automaticamente poi ti prende dentro e nasce. Quindi è iniziata così la nostra avventura a fare vino. Adesso abbiamo quattro etichette, abbiamo due selezioni di nero d'avola, che è il nostro orgoglio, perché abbiamo ricevuto tantissime gratificazioni attraverso i concorsi che abbiamo fatto. Poi produciamo un nobiluomo di Sirà, come lo definisce il mienologo Attilio Pagli. Adesso ho una new entry, questo grillo straordinario che mi emoziona davvero. Molte donne mi dicono che potremmo fare anche un profumo, tanto rappresenta la nostra meravigliosa Sicilia nel suo gusto di aggrumato e fusa ad una nuance di fiori bianchi, come dice l'altro mienologo, Ciarla. Allora abbiamo detto che la Sicilia è davvero profumata e appunto la passione e l'amore che si riesce poi a trasmettere in bottiglia. Parliamo del vostro territorio che non l'abbiamo ancora inquadrato. In che zona della Sicilia vi trovate? Ci troviamo nel sud della Sicilia, siamo proprio sul golfo di Gela di fronte all'Africa. E' anche per questo motivo che i miei vini hanno questa particolare nota tropicale di questo caldo d'Africa. Stavo dicendo, allora ci troviamo nel sud della Sicilia, i miei vigneti hanno una zona davvero magica, perché siamo in una riserva naturale, siamo di fronte a pochi passi dal mare, in questa riserva naturale dove c'è un lago salato e poi c'è anche il fiume Gela, quindi un microclima del tutto straordinario perché la frescura del mare detta le leggi su quello che è il gusto dei miei vini, che hanno una particolare sapidità dato proprio dal microclima salato che c'è nella zona. Quante bottiglie producete e quali sono i vostri mercati di riferimento ora? Allora, al momento produciamo 120.000 bottiglie diversificate nelle quattro etichette. Ci siamo, o meglio mi sono fermata qui perché ero partito un attimino un po' così in quarta, mi sono fermata a produrre 100-120.000 bottiglie, però ne possiamo produrre molte di più perché abbiamo 40 ettari di vigneto, mio marito non si stanca mai di acquistare vigneti, quindi però devo dire che la commercializzazione è molto difficile, molto difficile da parte mia perché sono entrata in un momento sicuramente quando la crisi economica e non solo, ma soprattutto quello che è il Nero Davolo era stato molto bistrattato da tutte le parti e quindi mi sono ritrovata a presentare un prodotto che molto spesso veniva unificato ai tanti Nero Davola che dicono di essere Nero Davola. Io credo molto in quello che è la qualità del mio prodotto e visto che la qualità ti premia sempre nella vita e sono abituata a non aver avuto nulla di facile, non mi è facile la commercializzazione, però io ci sono, ci voglio essere, voglio vincere così come è il mio diadema che rappresenta la vittoria per i greci e per me spero che sia davvero, o meglio, sarà sicuramente una vittoria. I mercati sui quali stiamo lavorando sono le Filippine, siamo presenti nelle Filippine, un po' in Svizzera, un po' in Germania e basta. Visto che abbiamo citato appunto un paese davvero particolare per il consumo del vino che sono le Filippine, qual è la reazione dell'estero rispetto ai vostri vini? Allora, io sfortunatamente non sono potuta andare nelle Filippine perché il Wine Festival che è stato fatto in onore a Casa di Grazia è stato proprio nel, diciamo, iniziava il martedì a Davao e la domenica ci fu quel disastro nelle Filippine, però nonostante tutto il mio importatore, il signor Sebastianelli, mi dice che c'è stata una risposta davvero molto bella perché in quella zona per fortuna non c'è stata questa calamità naturale e rispondono molto bene, fra l'altro ci sono vari ristoranti, non solo filippine, ristoranti filippini ma anche francesi. Dimenticavo, sono entrata, è un mio grande orgoglio, sono entrata nel mercato francese e per me ha rappresentato davvero tanto, visto che loro nella storia rappresentano una nazione di eccellenza per la classe dei vini che fanno ed essere presente anche in piccole quantità a Lyon e a Montpellier per me è motivo di grande orgoglio. Assolutamente, quindi una medaglia che deriva dalla passione e dalla qualità che non manca mai è una premessa indispensabile per produrre grandi vini, quindi la ringraziamo. Grazie a voi, grazie.